Appuntamento fisso ormai da 5 edizioni, il trofeo cittadella dello sport dopo aver riportato il ciclocross in provincia di Massa e Carrara con l'organizzazione della Montignoso Ciclismo 5 anni fa, in questi anni si è evoluto ed è arrivato a rappresentare un vero e proprio appuntamento fisso nel calendario del ciclocross toscano. Quest'anno un'ottima riuscita della manifestazione con circa 250 atleti alla partenza e la collaborazione storica con la ASD cicloabiglia, la Resceto Cycling, le motostaffette Versiglia Puano, Elettra Mazzoni e quest'anno si è ampliata questa collaborazione anche con i team che solitamente organizzavano manifestazioni nel ciclocross in Toscana, il pedale Ponticino Tecnico Honor Vaio, la Cycling Team 06, la CM2 ASD, la Fosco Bessi di Calenzano, la Michele Bartoli Academy e la Borgo Nuovo Miglior, queste le società che assieme alla Montignoso Ciclismo, assieme agli storici partner e collaboratori della Montignoso Ciclismo, si sono dati da fare per l'allestimento di questa giornata dedicata al ciclismo fuoristrada. Una giornata che si apre con la prova del percorso per quanto riguarda tutte le categorie, un percorso disegnato all'interno della Cittadella dello Sport, ci troviamo a Cinquale di Montignoso e un tracciato che quest'anno sarà battuto, dicevamo davvero, da tanti tanti atleti. Le prime categorie a scendere in pista sono quelle della categoria esordienti al secondo anno maschile, le ragazze della categoria esordienti secondo anno assieme alle ragazze della categoria allievi, quindi subito una bella partenza molto folta in questa giornata di fine dicembre, un appuntamento questo che anticipa di pochi giorni le feste, che quindi è stato anche l'occasione per tutti gli appassionati di ciclismo di ritrovarsi nel rispetto delle normative anti-covid per augurarsi anche le buone feste. Ovviamente organizzazione sempre attenta a questi dettagli, la prima partenza di giornata con la categoria esordienti al secondo anno scendono in pista quindi questi ragazzi, poi la volta delle ragazze della categoria donne allieve e in ultima battuta sono invece le ragazze della categoria donne esordienti che vanno a partire, le allieve sono ovviamente divise per quanto riguarda le varie categorie, la primo e secondo, hanno queste ragazze e ragazzi che tra poche settimane, il 10 di gennaio, si disputeranno il campionato italiano in Puglia, terra anch'essa di grande ciclocross. Intanto il tratto degli ostacoli con la testa della corsa maschile della categoria esordienti del secondo anno, ragazzi che scendono dalla bici per affrontare al meglio gli ostacoli artificiali che rappresentano un punto fisso in tutte le manifestazioni di ciclocross. Davvero una bella colpo d'occhio quello che gli organizzatori sono riusciti ad ottenere quest'oggi con tanti partenti, triplicato il numero dei partenti rispetto alle passate edizioni, questo anche perché il calendario di ciclocross quest'anno ha subito un po' come tutto il movimento ciclistico a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito una notevole riduzione e un po' anche perché questo sport, il ciclocross, da sempre richiama più partecipanti e da sempre richiama una maggiore attenzione con tanti ciclisti e campioni che dal ciclocross sono poi passati al grande ciclismo, basti pensare alle ultimi anni con Van Aert e Van Der Poel che prima di diventare grandi atleti su strada e cogliere successi importanti in classiche monumento, sono stati campioni del mondo di ciclocross, quindi davvero un passaggio che ha appassionato tanti ragazzi a spingersi, a pedalare su queste bici che ricalcano dal punto di vista del laterale una bici da strada ma poi ruote glasse e per quanto riguarda le categorie maggiori tanti utilizzano già i freni a disco per quanto riguarda questi atleti. Intanto continua la fase iniziale di corsa con la testa della corsa che è composta da Giacomo Dentelli e Giulio Pavi degli Innocenti sono i due atleti che stanno guidando la prova della categoria esordienti mentre qui vedete con il dorsale numero 164 si tratta di Alex Fratti che viaggia attorno alla settima ottava posizione in questo frangente. Qui intanto ancora passaggi dagli atleti della categoria esordienti del secondo anno e qui vedete con la maglia tricolore il dorsale è il numero 192 si tratta con diciamo proprio la maglia tricolore si tratta di Elisa Ferri che guida per il momento la prova riservata alla categoria delle donne esordienti al secondo anno. Ancora un passaggio dagli ostacoli con il gruppetto di testa della categoria esordienti del primo anno che si è rinfoltito sono 5-6 gli atleti che stanno guidando la corsa poi più staccati tutti gli altri insomma un'andatura molto sostenuta sin dalle prime battute la corsa si sviluppa sulla distanza di 30 minuti quindi dopo le prime due tornate il collegio di giuria stabilisce appunto quella che è la distanza finale di corsa e dicevamo come questi atleti che sono esordienti del secondo anno poi andranno quindi ad affrontare il campionato italiano e fino al 31 dicembre non c'è la categoria esordienti del primo anno che invece sarà poi invece in Elisa per il campionato italiano il prossimo 10 gennaio a Lecce dove si svolgerà la prova tricolore. Intanto cambia leggermente la testa della corsa perché vedete che adesso Dentelli e Pavi degli Innocenti hanno staccato leggermente tutti gli altri contendenti quindi si è composta questa bella coppia al comando di due atleti che sono sicuramente di primo piano per quanto riguarda l'aspetto ciclocrossistico il livello altissimo di questa manifestazione che quest'anno davvero ha radunato tanti appassionati con le categorie agonistiche classiche dagli esordienti passando agli allievi agli junior e alla categoria leader under 23 e poi anche le categorie amatoriali che sono sempre la linfa anche per le organizzazioni e che vanno un po' a supportare il movimento del ciclismo giovanile. Intanto vedete anche qualche problema meccanico mentre si va ricompattando un po' il gruppetto di testa dopo il tentativo che avevamo visto in precedenza 2 e si sono ricomposti sono adesso in 5 a guidare la testa della corsa una situazione quindi abbastanza fluida finché c'è l'attacco del dorsale 163 lo vedete adesso inquadrato Giacomo Dentelli che prova a staccare tutti gli altri prova a guadagnare qualche metro nei confronti degli avversari vedremo se questo tentativo riscuoterà ben successo un bel successo qua ma è una situazione ancora molto molto fluida con Pavi degli Innocenti che si è riportato sulla battistrada anche qualche problema di doppiaggio in questa fase ma praticamente è una situazione che adesso rivede la coppia alla comando con Dentelli e Pavi degli Innocenti che si sono nuovamente trovati assieme per questo finale di corsa della categoria esordienti del secondo anno sono in pista anche le ragazze della categoria femminile esordienti secondo anno le ragazze della categoria lievi attenzione adesso perché Pavi degli Innocenti prova a fare la differenza mette qualche metro tra lui ed il più immediato inseguitore vale a dire Giacomo Dentelli per questo tratto con Pavi degli Innocenti che quindi spinge verso il traguardo davvero bella l'azione di questo figlio d'arte che si sta per rappresentare sulla traguardo è lui il vincitore della prova della categoria esordienti secondo anno davanti a Giacomo Dentelli in seconda posizione mentre per quanto riguarda il podio arriva in terza posizione Francesco Cornacchini a chiudere quindi il podio per quanto riguarda invece la prova della categoria donne allieve del secondo anno il successo è andato a Federica Venturelli della Cicli Fiorin che ha conquistato così la prova allieve del primo anno la vittoria di Anita Baima anch'essa della Cicli Fiorin mentre tra le ragazze del primo anno il successo è andato a Delisa Ferri dell'Olimpia Valdarnese che vince anche il campionato regionale toscano o campionato regionale toscano che ovviamente va anche a Pavi degli Innocenti mentre per quanto riguarda le donne allieve il campionato toscano è andato a Neglia Cabetai della Borgo Nuovo per il primo anno e a Caterina Senesi della Fosco Bessi di Calenzano per il secondo anno a conclusione quindi di questa prima gara di giornata nel trofeo Cittadella dello Sport Siamo con Giulio Pavi degli Innocenti vincitore della gara esordienti uomini qua al torfeo Cittadella dello Sport insomma quali sono le tue emozioni è stata una gara a due con il tuo avversario ma alla fine l'hai spuntata tu nell'ultimo giro hai fatto quel passo decisivo per staccarlo? Sì dava delle belle fiammate sul rettilineo dopo la curva e vedendo che era rimasto bloccato tra i doppiati ho provato a allungare è andata bene ho vinto la corsa A chi va la dedica? La dedica la faccio a Adriano Gastasini che mi ha aiutato con la bicicletta e alla mia squadra alla Bartoli Academy. Elisa Ferri vincitrice della gara esordienti donne qua alla Cittadella dello Sport come è la tua emozione oggi? Sono molto contenta di aver vinto perché oltre che aver vinto sono arrivata anche delle allievi sono arrivata lì davanti insomma e il percorso era molto bello era molto tecnico per le curve che c'erano e è stato molto bello vincere. Una dedica a chi va? La dedico alla mia famiglia che è sempre stata vicino a me e mi ha fatto il tifo per tutta la gara. Federica Venturelli vincitrice della gara allieve donne sei partita subito forte ma hai tenuto questo ritmo alla fine non c'è stata gara anzi hai raggiunto perfino dei tuoi colleghi uomini? Sì questa gara mi è piaciuta perché era molto adatta a me e alle mie caratteristiche quindi sono partita forte sperando di riuscire a tenere il ritmo per tutta la gara e sì sono anche stata motivata perché essendoci maschi davanti a me ero sempre stavo sempre per prenderne qualcuno e quindi la motivazione non mancava perciò sono riuscita a tenere fino alla fine e a vincere questa gara. Ed è il momento della seconda gara di giornata quella riservata alle categorie maschili allievi primo e secondo anno come vedete anche in questo caso molto numerosa la partecipazione con oltre 60 atleti alla partenza un successo a tutto tondo quest'anno quello firmato dalla Montignoso Ciclismo con il trofeo Cittadella dello Sport un'organizzazione che si avvale anche del supporto degli partner storici della Montignoso Ciclismo come Oro in Euro di Marina di Carrara, la Stone Italy, la Cervaiolo in Vallaggi, dei Fratelli Germelli, la Seven Edilizia e di partner commerciali che sono a fianco della Montignoso Ciclismo come Gazzoli, Ristorazione, Fonte Viva, Divino, Pasta, Mennucci, Gallisburgo, Selle, SMP, Contatto Pubblicità, Decathlon, Bike Academy, Nicola Parenti Coaching e la Bull Cycling Lab di Biomeccanica. Un ringraziamento va anche alle altre società che hanno reso possibile questa organizzazione ovviamente da sempre da quando è nata questa Montignoso, questo trofeo Cittadella dello Sport, la Ciclabilia, la Rescitto Cycling, Motostaffette Versiglio Apuano, l'Elettra Mazzoni sono stati a fianco della Montignoso Ciclismo, quest'anno si aggiungono anche la Ponticino Tecnicolor, la Cycling Team 06, la CM2 ASD, la Fosco Bessi, la Michele Bartoli Academy e la Borgo Nuovo Miglior che sono state al fianco, solitamente organizzavano le loro manifestazioni all'interno del calendario, ovviamente quest'anno le difficoltà dovute alla Covid e all'emergenza sanitaria che ha colpito e sta colpendo ancora in maniera forte il nostro paese e non solo non hanno reso possibile lo svolgimento di un calendario denso di appuntamenti come quello degli anni scorsi e quindi hanno convogliato le proprie energie per sostenere la Montignoso Ciclismo nell'allestimento di questa manifestazione. Stiamo seguendo la prova riservata alla categoria allievi primo e secondo anno di questa seconda gara di giornata, praticamente seconda batteria, poi seguiranno le altre prove per quanto riguarda questa gara di ciclo cross e dicevamo nel pomeriggio si svolgeranno le prove riservate alla categoria juniores che correranno assieme alla categoria donne open e ovviamente alle prime categorie amatoriali la fascia 2 assieme ovviamente alle categorie amatoriali donne e poi più tardi la prova riservata all'iter under 23 che correranno assieme agli atleti amatori di fascia 1 una gara molto veloce quella della categoria allievi che ha visto subito grande battaglia in palio anche il titolo di campione regionale qui vedete Samuele Scappini della Forte Braccio che battaglia con Riccardo Lorello della Fosco Bessi di Calenzano nelle prime posizioni del gruppetto di testa abbiamo visto anche Alessandro Failli dell'Olimpia Valdarnese Mirko Marcolli della Busto Garolfo ovviamente Fosco Bessi dell'Olimpia Valdarnese che hanno i loro atleti impegnati anche per quanto riguarda il contendersi del campionato regionale quindi massima attenzione anche per quanto riguarda questa gara nella gara mentre intanto vedete adesso Mirko Marcolli della Busto Garolfo che prova ad allungare e seconda posizione per Alessandro Failli dell'Olimpia Valdarnese quindi è Lorello in terza posizione si va allungando il gruppo degli uomini al comando comunque ancora forte di 5 unità è presente anche Nico Biagi del team Lensi Bike a far parte di questo gruppetto di testa 5 gli atleti alla comando quindi quando ci avviciniamo avete visto anche il contagiri in precedenza alle battute finali di questa corsa che assegna il successo per quanto riguarda la categoria lieve intanto sempre a fare l'andatura Mirko Marcolli della Busto Garolfo che adesso guadagna qualche metro nei confronti degli avversari nei confronti degli altri che fanno parte del gruppetto di testa vedete una gap di una ventina di metri per Mirko Marcolli poi Lorello in seconda posizione quindi Failli e quindi abbiamo visto Scappini e Biagi a chiudere il gruppetto degli uomini al comando un gruppetto che però abbiamo visto si sta trasformando con Marcolli che cerca di affondare un attacco in queste ultime tornate di corsa in questa edizione 2020 del trofeo cittadella dello sport ormai solo alla comando Mirko Marcolli della Busto Garolfo dietro avete visto si è formata una coppia con Lorello e Scappini poco più indietro Pailli e quindi Biagi in quinta posizione davvero una bella battaglia quella che stiamo seguendo quest'oggi nella categoria lievi con l'attacco di Mirko Marcolli della Busto Garolfo che ha fatto adesso il vuoto vedremo se riuscirà a tenere il vantaggio anche nel corso dell'ultimo giro nell'ultima tornata di questa prova dietro Lorello e Failli stanno viaggiando molto forte per cercare di recuperare lo svantaggio nei confronti del battistrada solitario alla comando ma ci avviciniamo sempre di più all'epilogo della prova all'epilogo di questa seconda gara in programma e vedete che adesso Lorello si è avvicinato notevolmente a Marcolli sembra in grado di agganciare il battistrada quindi potrebbe formarsi una coppia ma davvero attenzione anche alla possibile rientro da parte di Alessandro Failli dell'Olimpia valdarnese che non è distante poi vedete Scappini in quarta posizione quindi quinta posizione provvisoria per Nico Biagi del team Lensi Bike questa è la situazione praticamente a circa mezzo giro dalla conclusione di questa prova riservata alla categoria lievi una grande battaglia con Mino Marcolli e Riccardo Lorello che assieme a Failli si sta contendendo anche il titolo di campione regionale vedremo come andrà a finire questa corsa nella corsa per quanto riguarda questa categoria lievi intanto adesso è tornato ad aumentare il vantaggio di Marcolli nei confronti di Lorello vedete una ventina di metri ha perso qualcosa Lorello che nell'immagine precedente invece sembrava in grado di chiudere nei confronti della battistrada probabilmente ha appagato un po' la fatica fatta per cercare di ricucire lo strappo arriva anche Failli in terza posizione quindi Samuele Scappini del team Forte Braccio in quarta questa è una situazione chiara e vedete il successo di Milo Marcolli che conquista così la vittoria secondo posto per Riccardo Lorello che comunque esulta per la conquista del titolo di campione regionale toscano quinta terza posizione per Failli quindi Scappini e Biagi in quinta posizione Milo Marcolli vincitore della gara lievi uomini in quinta edizione del trofeo cittadella dello sport è stata una gara dura perché hai dovuto fare selezione perché il gruppo era piuttosto numeroso e non era semplice da staccare ma alla fine sei stato tu a prevalere sì gara molto intensa soprattutto caratterizzata dal fatto che siamo rimasti per tutta la gara in quattro la selezione vera si è fatta l'ultima parte del penultimo giro quando davanti ai box ho provato ad accelerare lì sono rimasto da solo ho preso una decina di metri fino a metà del ultimo giro quando un atleta mi ha raggiunto però non ho provato a dare tutto quello che avevo e alla fine sono riuscito a scamparla Lorello Riccardo secondo classificato nella gara lievi del trofeo cittadella dello sport e nuovo campione toscano quali sono le tue sensazioni al termine di questa gara dura e provato a tenere testa al primo alla fine comunque arriva un bel trionfo a livello regionale? beh sicuramente è stata una corsa molto tirata fin dalle prime battute ho cercato di stare sulla seconda posizione in modo che potevo controllare la corsa però il primo ci è andato via quando era entrato Failli che ha provato a fare una menata però non è riuscito ad andare via e subito dopo è partito Marcolli che è riuscito in un momento difficile a partire e a vincere la corsa le mie sensazioni sono state molto positive perché era un'annata molto dura dopo ho fatto tre settimane di stop perché mi sentivo male e oggi sono tornato più forte e sono riuscito ad avere questo successo di campione toscano molto meritato perché mi sono allenato duramente e mi sono accontentato di questo secondo posto vorrei fare una dedica alla mia famiglia soprattutto a mio padre e a mio nonno che mi accompagnano agli allenamenti e che ieri senza mio padre non potevo correre perché mi si era rotto il cambio e grazie a lui mi ha portato la bici nuova e mi ha fatto correre vorrei dedicarla soprattutto a lui perché anche prima era a fare il cambio bici ad aspettare e a incitarmi e fin da sempre mi ha voluto bene e credo in me poi un'altra dedica al mio allenatore e alle mie due nonne che sono morte siamo con il sindaco di Montignoso qua alla quinta edizione del trofeo cittadella dello sport è stato un anno particolare ma direi che questa festa, festa dello sport, questa edizione è un bel segnale di ripresa per tutti assolutamente sì, noi ci abbiamo sempre creduto e in particolar modo in quest'anno difficile per la pandemia e l'emergenza sanitaria abbiamo accettato la sfida credo che siamo l'unico comune in Toscana ma mi risulta che ce ne siano pochi in Italia che hanno accettato di organizzare una gara come questa, noi ne siamo felici lo abbiamo fatto con il Buffoni negli scorsi mesi, oggi siamo qui in questa gara importante una giornata di festa, una giornata di sport, quindi orgoglioso di rappresentare questo comune e la federazione locale perché hanno fatto un gran bel lavoro, una giornata di speranza per il futuro ed è arrivato il momento della terza gara all'interno di questa intensa giornata dedicata al ciclocross con il trofeo cittadella dello sport organizzazione a cura della Montignoso Ciclismo, ci troviamo a Cinquale di Montignoso per la quinta edizione di questa manifestazione che da 5 anni ha riportato il ciclocross sui campi della provincia di Massa e Carrara quest'anno un grande appuntamento reso possibile anche grazie alla sinergia tra le varie società toschiane nell'universo ciclocrossistico che hanno permesso la realizzazione di questa bella giornata e oltre 200 partecipanti lo testimoniano con la prova che stiamo seguendo adesso che è quella riservata alle categorie juniores per quanto riguarda le categorie maschili, poi la volta della categoria donne open e poi si parte anche con le varie categorie amatoriali di fascia 2 che saranno in pista praticamente in contemporanea ai ragazzi della categoria juniores e dalle donne open in pista anche tutte le categorie amatoriali femminili in questa batteria poi ci rimarrà da vivere l'ultima prova di giornata quella riservata alla categoria elite d'under 23 alla quale parteciperanno anche le categorie amatoriali di fascia 1 davvero bello il colpo d'occhio anche in questa partenza con tanti atleti in pista ed una partenza subito molto veloce che vede protagonisti, li vedete adesso, li avete visti inquadrati i due atleti che stanno tentando la fuga per quanto riguarda la prova della categoria juniores con Tommaso Ferri dell'Olimpia valdarnese quindi Gabriele Bertini della Valerbaic poi presenti anche altri atleti che sono subito dietro davvero un inizio velocissimo per quanto riguarda questa prova riservata alla categoria juniores vedete come il gruppo si è già notevolmente allungato nel tratto inquadrato adesso quello degli ostacoli artificiali posti dal comitato organizzatore che è guidato da Mario Ferrari il presidente del montignoso ciclismo mentre intanto seguiamo anche la prova per quanto riguarda le categorie femminili che sono in pista in questo momento con le donne junior guidate da Sara Fiorin della Cicli Fiorin Cycling Team la formazione lombarda che è scesa qui in Toscana per partecipare a questa iniziativa questa bella giornata di sport dedicata alla ciclocross intanto vedete anche le varie categorie amatoriali impegnate quest'oggi mentre noi torniamo in testa dove il dorsale 43 Tomaso Ferri guida davanti a Gabriele Bertini il primo Ferri dell'Olimpia Valdernese il secondo del Valer Bike poi più indietro vedete altri atleti tra cui Tommaso Poli del Team Stradella via via poi tutti gli altri che compongono le prime dieci posizioni del gruppo per quanto riguarda la categoria Juniors quindi c'è stata una bella selezione con questa coppia quella composta da Gabriele Bertini della Valer Bike e Tommaso Ferri dell'Olimpia Valdernese che hanno preso subito un bel vantaggio un ringraziamento da parte degli organizzatori va ovviamente a tutte le società che sono intervenute le società che hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione che già negli scorsi anni aveva vissuto su un bel connubio di forze da parte delle società della Riviera Puana con il Ciclo Abilia la Resceto Cycling le motostaffette Versiglia Puane l'Elettro Mazzoni a quest'anno si sono aggiunte anche il pedale Toscano Ponticino il Cycling Team 06 la CM2 ASD la Fosco Bessi di Calenzano la Michele Bartoli Academy e la Borgo Nuovo Miglior che hanno anche loro contribuito all'allestimento di questa manifestazione proprio nell'ottica di un'unione di forze in questo periodo difficile per la società e anche quindi per il ciclismo sono riusciti ad allestire questa bella manifestazione intanto vedete che la prova della categoria Juniors vive sostanzialmente su un terzetto che adesso si è formato in testa oltre a Tommaso Ferri dell'Olimpio Valdarnese e Gabriele Bertini della Valerbike si è aggiunto anche David Rinaldoni del team Cingolani che quindi va a completare il terzetto di uomini alla comando mentre dietro si è fatto un po' il vuoto qui intanto continuano a transitare gli atleti che occupano comunque le prime dieci posizioni della classifica provvisoria in questa prova riservata alla categoria Juniors che si svolge in contemporanea alla prova riservata invece alle categorie femminili sempre molto attive le ragazze della Fiorin cicli Fiorin nelle prime posizioni del gruppetto ma anche abbiamo visto altre atlete che stanno comunque combattendo per quanto riguarda le prime posizioni e la prova da sottolineare ottima di Sara Fiorin che della categoria Donne Junior ha praticamente fatto il vuoto ed è riuscita per il momento anche ad averla meglio sulle atlete più grandi quindi davvero bella la prova di Sara Fiorin che veste la maglia proprio della cicli Fiorin intanto attendiamo ancora un ulteriore passaggio della testa della corsa della categoria Juniors mentre vi ricordo che l'ultima gara in programma sarà quella riservata alla categoria Elite Under 23 e saranno presenti anche gli atleti della categoria amatoriali fascia 1 intanto ecco questo il terzetto di testa che rimane praticamente sempre invariato con Tommaso Ferri Davide Rinaldoni e Gabriele Bertini che stanno guidando la corsa alle loro spalle qui vedete inquadrato Andrea Conti della Dotta Junior Bike Team ed è il primo inseguitore del terzetto al comando quindi occupa al momento la quarta posizione poi la volta di Filippo Fiorentini del team ciclistico Paletti assieme a lui anche Simone Masoli della Dotta Junior Bike e così abbiamo fatto anche un escursus di quelle che sono le prime posizioni in questa gara riservata alla categoria Juniors transita anche Alessandro Nannini della team Lensi Bay che poi via via tutti gli altri andando a completare le prime posizioni di questa prova riservata alla categoria Juniors Tessatofeo cittadella dello sport con organizzazione a cura del montignoso ciclismo che si avvale del contributo degli sponsor storici di questa compagine Oro in Euro Marina di Carrara la Stone Italy la Cervaiolo Imballaggi dei Fratelli Germelli e la Seven Edilizia un ringraziamento va anche ai partner commerciali Gazzoli Ristorazione Fonte Viva Divino Pasta Mennucci Galli Spurgo Selle SMP Contatto Pubblicità Decathlon Bike Academy Nicola Parenti Coaching Bull Cycling Lab Biomeccanica Questi sono gli sponsor sia commerciali sia tecnici che sono a fianco della Montignoso Ciclismo nell'allestimento di questa prova ma anche in una stagione che quest'anno ovviamente è stata segnata dal Covid-19 ma che si spera già nel 2021 possa tornare ad essere una stagione di grandi organizzazioni con l'appuntamento nella prima domenica di marzo del trofeo oro in euro Women Bike Race che speriamo poter tornare a seguire con le donne professioniste impegnate intanto nella prova della categoria junior se sono cambiate un po' le cose perché ha fatto la differenza adesso è solo al comando Tommaso Ferri dell'Olimpia Valdarnese che quindi ha staccato Gabriele Bertini inquadrato in questo momento e ancora più indietro David Rinaldoni in terza posizione quindi si è praticamente risolta la situazione a tre che vedeva impegnati questi atleti con la bella uscita di Tommaso Ferri dell'Olimpia Valdarnese che adesso ha un buon margine di vantaggio nei confronti di tutti gli altri quindi si appresta a chiudere la prova in prima posizione bella la prova di Ferri che quindi sta guidando la cursa della categoria junior via via tutti gli altri siamo alla suono della campana transitano anche le atlete della categoria femminile in questa fase andando quindi ormai verso il finale ed è questo è il momento del successo di Tommaso Ferri dell'Olimpia Valdarnese che quindi conquista il successo davanti a Gabriele Bertini della Valerbike in seconda posizione la terza piazza per David Rinaldoni del team Cingolani mentre per quanto riguarda le categorie femminili il successo di Sara Fiorin della Cicli Fiorin mentre per quanto riguarda le categorie amatoriali nella fascia 2 vittoria di Gianluca Longoni dei Master 5 nei Master 4 invece il successo di Leonardo Miniati nei Master 6 la vittoria di Mauro Tesi nei Master 8 invece il successo di Massimo Burzi che quindi conquista così la vittoria Master 7 per Aurelio D'Aquino Tommaso Ferri vincisore della gara junior del quinto trofeo cittadale allo sport per te vittoria doppia perché sei anche campione toscano una gara vinta all'ultimo giro perché te ne sei andato sei stato bravo anche a dribblare tra i doppiati e a battere i tuoi avversari sì è una gara molto dura fin dall'inizio ho cercato di mantenere il passo un passo molto sostenuto e l'ultimo giro sapevo che dovevo dare tutto per se volevo vincere anche quest'anno infatti ci sono riuscito a fare quello che volevo fare a chi va la dedica? va a tutte le persone che mi hanno sostenuto anche in questi ultimi mesi e tutte le persone che mi hanno tifato quest'oggi siamo con Saria Fiorina vincitrice della quinta edizione cittadella dello sport una vittoria netta perché te ne sei andata sin da subito non hai lasciato scampo alle tue avversarie sì è stata una gara tirata fin dall'inizio i primi giri ero con un'avversaria e ci giocavamo appunto la prima posizione e poi appunto sono riuscita a prendere un po' di metri a prendere vantaggio e l'ho tenuto fino alla fine ed è il momento dell'ultima gara in programma quella riservata alle categorie Elite Under 23 che corrono assieme agli amatori di fascia 1 l'ultima gara di questa intensa giornata di ciclocross a 5 alle di Montignoso per il trofeo cittadella dello sport con l'organizzazione a cura della Montignoso ciclismo assieme e coadiuvata da un team di formazioni e di squadre che hanno lavorato assieme per garantire il successo di questa manifestazione successo è stato con numeri praticamente triplicati rispetto alle passate edizioni oltre 200 gli atleti che hanno preso il via in questa giornata che è stata anche baciata dalla sole nonostante le temperature ovviamente non erano altissime comunque siamo pochi giorni da Natale quindi mese di dicembre è ormai appuntamento fisso per questa manifestazione la gara riservata alla categoria Little Under 23 la gara più attesa della giornata con atleti di alto livello che competono per il successo e quindi tutti gli occhi sono puntati su questa corsa con ovviamente anche gli atleti che hanno concluso in precedenza che possono così seguire le gesta dei ragazzi più grandi e questo è anche uno degli aspetti positivi del ciclocross avete visto intanto Lorenzo Cionna che stava guidando la corsa del team Cingolani alla sua ruota era presente Alessio Trabalza e poi via via tutti gli altri con Carozzo Pavoni e Marzani nelle prime posizioni per quanto riguarda la categoria Elite Under 23 dicevamo una giornata intensa che torna e vede il ritorno del montignoso ciclismo sul lato organizzativo quest'anno non si è disputata la prova che apriva ovviamente la stagione femminile il giorno successivo alle strade bianche la Woman Biker Race trofeo oro in euro che però si è svolta nel mese di settembre con la prova junior con la prova delle giovani diciamo categoria delle categorie esordienti ed allieve che quindi ha visto comunque la possibilità per queste ragazze di contendersi il titolo che solitamente spetta alle ragazze più grandi intanto ovviamente seguiamo la prova della categoria Elite Under 23 vedete che in testa c'è Trabalza con Carozzo poi in terza posizione invece è Lorenzo Cionna questi gli uomini che stanno guidando la corsa quando siamo a tre giri dalla termine è questo terzetto che si è avvantaggiato nei confronti degli altri atleti sono atleti di spicco quelli che vediamo inquadrati adesso con Trabalza Cionna e Carozzo poi poco più indietro tutti gli altri con qui vedete Pietro Pavoni e poi via via tutti gli altri partecipanti della categoria Elite Under 23 assieme agli atleti delle categorie amatoriali di fascia 1 era presente lo avete sentito anche nell'intervista in precedenza il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti che è sempre vicino agli organizzatori della Montignoso ciclismo e nel frattempo una situazione che non cambia con il terzetto alla comando che rimane composto adesso si è aggiunto anche Pavoni quindi sono in quattro a guidare la corsa si tratta quindi di Cionna Carozzo Pavoni e trabalza questi i quattro uomini che stanno guidando la testa della corsa per quanto riguarda la prova della categoria Elite Under 23 a conclusione di questa intensa giornata di ciclismo di ciclocross in provincia di Massacarrara ci troviamo a Cinquale di Montignoso l'organizzazione a cura della Montignoso ciclismo il presidente Mario Ferrari assieme a tutti i suoi collaboratori con le altre società che abbiamo più volte ricordato nel corso della nostra telecronaca che hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione della manifestazione intanto di la forzing da parte di Alessio Trabalza che prova a scrollarsi di dosso gli avversari ritornano ad essere in tre adesso con vedete infatti leggermente staccato Pavoni rimangono quindi Carozzo Cionna e Trabalza Caroni però adesso riesce ad agganciarsi fatica un po' rispetto agli altri in questo frangente il portacolori del team Kobo Pavoni ma ovviamente siamo nelle battute finali di corsa di questa gara che si disputa su un tempo di 60 minuti quindi anche molto lunga molto impegnativa dal punto di vista cronometrico questa prova riservata alla categoria Elite Under 23 che sta vivendo una bella battaglia a quattro per il successo con Trabalza Cionna Carozzo e Pavoni che si stanno contendendo la vittoria e proprio nella finale sono ancora in tre con Cionna Carozzo e Trabalza che vanno a contendersi la vittoria lanciato uno sprint velocissimo in fondo al rettilineo con la fermazione di Alessio Trabalza davanti a Lorenzo Cionna e Marco Carozzo in terza posizione bella vittoria dopo questa lotta davvero all'ultimo metro di Alessio Trabalza per quanto riguarda invece la categoria Elite Sport la vittoria di Matteo Cancherini continuiamo a vedere i Master 1 la vittoria di Leonardo Chieruzzi mentre per i Master 2 Davide Carissimi e per quanto riguarda quindi la categoria Master 3 il successo di Michele Lazzeroni è un perugino il vincitore della quinta edizione del trofeo cittadella dello sport siamo con Alessio Trabalza che ha dovuto faticare non poco oggi per primeggiare fino all'ultima curva è stata una battaglia ma alla fine hai vinto tu sì dai è stato molto molto divertente una gara adrenalinica dall'inizio alla fine perché eravamo sempre in 3-4 a giocarcela e ho cercato di fare un po' il mio ritmo fin dall'inizio però ho visto che su questo percorso era difficile fare la differenza e dunque ho giocato un po' di astuzia ho cercato di rimanere fino alla fine davanti sapevo che poi in volata avrei potuto fare la differenza e così è stato Ci ha raggiunti Mario Ferrari presidente della Montignoso Ciclismo organizzatore della quinta edizione del trofeo Cittadella dello Sport appena terminata l'ultima delle gare com'è insomma un bilancio di questa giornata splendida anche considerando che non deve essere stato semplice organizzarla dopo tutto quello che è successo in questo 2020 Eh sì dopo tutto questo problema del Covid è stata una grande impresa ce l'abbiamo fatta e voglio ringraziare anche le altre società che hanno collaborato con noi e siamo riusciti a mettere su con tanto sacrificio questa bellissima manifestazione volevo ringraziare le società partecipanti tutti gli atleti veramente è stata una giornata stupenda il sole dopo tanta acqua che ho preso tutta la settimana ci ha graziato oggi ci ha fatto questa bellissima giornata del sole quindi tutto è andato bene un grazie veramente di cuore a tutti un ringraziamento alle istituzioni che ci hanno dato la possibilità di fare la gara un ringraziamento tutti i volontari che ci hanno dato una mano anche nell'organizzazione quindi grazie di cuore a tutti e grazie a voi per le vostre riprese grazie l'anno prossimo vediamo di rimetterla in cantiere sicuramente faremo anche la sesta edizione oramai se il terreno rimane così che ci permettono di farlo sicuramente siamo pronti a rifare anche la sesta edizione guardiamo se riusciamo a aumentare che non ci sia problemi i codi spero che finiscano dopo le feste sia finito tutto di poter fare una competizione in una gara veramente a alti livelli grazie